Ibu, Banco Italia, avverga dei termini costitizionali. Faccio prevenire e mi carico che tutte e tutte le fai del procedimento che non si sono fuori, neanche che il Dupianco tutto già esprime le nuove dichiarazioni e le due dichiarazioni. Mi dico quindi la votazione nominale finale, mediante procedimento dell'economia, se sensi che agreed gli negocianti o pronti oppure agli unico ciocco della regia il trema. Mi all'aperta da votazione. Mi all'aperta da votazione. Mi all'aperta da votazione. Mi all'aperta da votazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.